Buona serata ancora e buon viaggio da Moveris in Toscana e da Mauro Ciutini. Partiamo con l'A1, segnalato traffico intenso all'uscita di Firenze Sud in entrambe le direzioni. Code anche in A11 la Firenze Pisa tra la barriera di Firenze Ovest e Prato Est direzione di Pisa, mentre in direzione Firenze, sempre in A11, code tra lo svincolo di Sesto Fiorentino e Firenze Peritola. Rallentamenti sulla Firenze Pisa Livorno per un veicolo in avaria tra lo svincolo di Darsena e lo svincolo di Tirrenia in direzione di Firenze. Code a tratti anche sul raccordo Bettolle Perugia per veicoli scortati tra l'incrocio di Olmo e quello di Castiglion del Lago in direzione del raccordo Siena-Bettolle. E ci sono ancora code sui viali a Firenze in entrata e in uscita città. Per lavori ricordo che oggi e domani inviarei di chiusura del marciapiede e restringimento di carreggiata il tratto interessato è quello tra via San Jacopino e via Cassia. È tutto, muoversi in Toscana con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. A dopo.